Siamo una piccola fondazione, molto povera, ma abbiamo una casa. I fondatori, un gruppo formato da vecchi amici del 68 e da giovani volontari, erano e sono redattori di una rivista che si chiama Una città, una rivista di interviste, una rivista che si dichiara militante, ma il cui motto è le domande vengono prima delle risposte. Un giorno scoprimo per caso che a Forlì c'era stata una strage di ebrei. Non ne sapevamo nulla, al pari del resto della cittadinanza. La fondazione, intitolata da Alfred Levin, un giovane ebreo berlinese, socialista, fucilato a Forlì nel 44 insieme alla madre Jenny e ad altri 17 ebrei ed ebrei in fuga dalle leggi razziali tedesche, è nata nel 2003 dall'incontro con Lissi Levin. Era a Berlino quando per caso le giunse notizia della cerimonia per una degna sepoltura degli ebrei fucilati nel 44, fra cui comparivano i nomi del fratello e della madre. Prima di essere internato Alfred, insieme alla madre Jenny, erano riusciti a convincere Lissi ad abbandonarli per riparare in Inghilterra dove ancora accoglievano giovani ragazze ebree. Salvata si è tornata in Germania, quella dell'est, anche per via del muro, per 56 anni non era riuscita a sapere dove e come fossero morti il fratello e la madre. Ecco, Lissi Levin è stata la presidente di una fondazione che fa della memoria e suo primo scopo. Una memoria che serva a riflettere sull'oggi perché non si debbano ripetere, come già in Bosnia, in Algeria, persecuzioni razziali, etniche o religiose. Siamo una fondazione militante, il che suona quasi una contraddizione in termini. Quando ci chiedono militante di cosa rispondiamo di non saperlo. In realtà in qualcosa crediamo, che l'ideale del socialismo umanitario, non quello scientifico, per carità, il cooperativismo, il mutualismo, la capacità di libertà e di autonomia delle persone e di autogoverno e di democrazia delle comunità possano essere d'aiuto in un futuro così problematico. Ecco la nostra seconda finalità, tenerviva la memoria di quegli ideali e ragionare sul loro senso oggi. La nostra attività principale è quella della biblioteca, aperta al pubblico, specializzata, diciamo così, nelle due finalità che dicevamo. La biblioteca nasce da due lasciti, uno di Gino Bianco, giornalista, militante, socialista libertario, esperto del laburismo inglese, che ci ha lasciato, oltre ai suoi libri, un importante fondo di carte, lettere e manoscritti di Andrea Caffi, l'intellettuale nato in Russia da genitori italiani, socialista e rivoluzionario che conobbe le carceri zariste, bolsceviche e naziste, amico di Albert Camus, con cui condivideva la stanza di lavoro come lettore da Gallimard. Il secondo lascito è arrivato da Miriam Chiaromonte, che ci ha donato una parte consistente della biblioteca del marito Nicola, l'intellettuale che con Ignazio Silone diede vita alla rivista a tempo presente. La biblioteca si sta specializzando nella digitalizzazione e nella messa in rete di riviste e giornali. Già oggi, con 46.000 pagine in rete, possiamo dire di essere una delle emeroteche digitali più importanti d'Italia. Si possono sfogliare e leggere le intere collezioni di riviste, in particolare delle tradizioni liberar-socialiste, libertari e socialiste democratiche e repubblicane. Da Giustizia e Libertà, il settimanale clandestino dei fratelli Rosselli, all'unità di Gaetano Salvemini, alla Libertaria Volontà, a Politics, la rivista della sinistra radicale americana animata dal gruppo di cui facevano parte Anna Arendt e Nicola Chiaromonte, a Mercurio di Alba de Cespedes, a Nuova Europa di Luigi Salvatorelli e tante altre. Ora la biblioteca può ampliarsi per la donazione di una sala attigua alla sede attuale. Oltre che una sala di lettura aperta al pubblico, vorremmo che diventasse un centro di attività rivolto ai giovani, con una scuola di interviste e una scuola di politica e storia per ragazzi appassionati. Dedicheremo la sala a Karim Mann, una giovane amica tedesca prematuramente e scomparsa, la cui biblioteca di 2800 volumi è stata donata dalla madre alla nostra fondazione. Catarina, poliglotta, laureata in letterature comparate, aveva studiato anche in Italia e iniziato a collaborare alla rivista Una città poco prima di ammalarsi. Vorremmo testimoniare nel suo nome quello di una giovane cosmopolita come ce ne sono tanti, la speranza in un'Europa unita diversa e provare a raccontare a giovani desiderosi di impegno e cambiamento come si possa essere radicali senza essere antagonisti, come costruire un mondo migliore senza dovere prima distruggere. Abbiamo bisogno di un aiuto per finire i lavori. I soci della fondazione hanno fatto quello che potevano. La ristrutturazione è quasi finita, ma poi ci sono gli arredi e i computer. Da soli non ce la facciamo. Grazie. Grazie. Grazie.